Sono 40 le aziende di tutte e quattro le province ad aprire le porte al pubblico dei visitatori e degli appassionati del vino in occasione della quindicesima edizione di Cantini Aperte in Abruzzo, in programma sabato 29 dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20. La manifestazione è stata organizzata dal Movimento Turismo del Vino ed è sostenuta da Assessorato Regionale all'Agricoltura, Union Camere, Fondazione Pescarabruzzo, Arza e Provincia di Pescara.